E allora, ciao a tutti amici, ben ritrovati, sono Dimos Smith e sono davvero desolato. In pratica è successo, pensavo di aver distrattato ma non stavo distrattando e tutto quello che è successo, in pratica, se non si è perso una buona parte, è che io ho perso, c'è molto il nostro caro Amir. Abbiamo preso Tunisi, abbiamo dato, diciamo, al nostro parente, al marito di nostra sorella, c'è una grande, poi abbiamo dato a retta, al nostro figlio, che si è dato 10 in più, abbiamo solitato Stewardship, che già è molto avanzato con Stewardship, quindi si è messi molto bene. E poi si è creata, si sta creando una frazione molto pericolosa, che abbiamo dovuto calmare come, abbastanza la Crown Authority, e soprattutto, sposando sia Sevilla con il nostro figlio, Sevilla con il nostro figlio e la sua rete, che è già una rete buona, non genius, e noi con sua figlia, con Vizcaria che è stata qui, vedete qui che è bellina. Che giusto dire, non è male. E questa alleanza ci toglie un po' di problemi. Qui c'è una seconda moglie che non mi interessa, non so neanche che ci sia lei. Togliamo tutto e torniamo alla questione di oggi. Mi piace che abbiamo perso un bel po' di cose, ma se la vi. Qui mi spiega questa corona. Il nostro uomo, che è un ottimo sovrano, perché ha dei buoni tratti militari. E' un ottimo sovrano, cioè, già avanzato come struttura, c'è già avaro, quindi c'è più 2, e oltre in tasca più 15 per 100, quindi ha moltissimi soldi, dipende, ho l'income di 50 addirittura. Non so se siamo a livello 2 di Crown Authority. E' il ghiottone gregaro, ma, cioè, davvero, ha dei ottimi tratti river, e Finker clerk, Valus Corriconcent, è un grande sovrano. Peccato che il suo figlio non si è come lui. Davvero peccato che più Marcelli userà. Comunque, se ho poche spot, non mi interessa. Posso fare molte guerre ora. Per il kingdom non penso proprio. Bisogna fare quella su Ducato. E io ripeto, vorrei espandere, finché non riusciamo a prendere tutta la giornata qui. Posso fare moltissime guerre, anche a Friuli, l'Italia, ma non mi interessa per ora. Però non mi interessa, sinceramente. Ma io, 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 sì, già sono partiti. Che ho un po' di uomini. Mettiamo un quarto, come sempre. Ok, penso che questi qui basteranno. Renniamo al super benino, va, che qua non voglio che mi tolgono. Anche se ho 13 mesi è poco. Se vado qui, magari, io un po' non ci stiamo. Perfetto. Loro sono scappato, magari non hanno paura. Uh, uh, Legacy. Avvito Blood. Ora, noi potremmo fare Custom. Metropolitan. Dynasty Member Receive Tom Maven. Studio Cipi... Wow. Wow, più studio Cipi Lenny, ragazzi. Questo è ottimo. Si va a fare. Si va a fare Repubblica Education. E io vado su Metropolitan. Voglio andare sulla città. Voglio costruire delle grandissime città. Mentre questa... Dessita ha aggiunto moltissimo. Già con Royal Court ha aggiunto moltissimo. Con la Corte Pigerazione. Mentre effettivamente ha dato più caratteristiche appunto all'Iberia stessa. Ha aggiunto a Struggle la dissoluzione. Che è una cosa che ha funzionato qui in Piero Bizantino. In Italia. Quindi è una cosa che va alla Struggle. Non solo in Iberia, ma anche in varie regioni. Sarebbe che ci sono magari qualche altro dissili. Casi, non so, Fate of England. Fate of Italy. Sono quasi dedicata a altre regioni. Oltre a Liberia. Mi piaceva questa cosa. Lui questa sette mesi. Ma non mi interessa. Io ho questi miei territori. Lui dove sta? Lui sta lì. Vabbè. E stati là. Non ti preoccupare. Ti tolgo tutto qui. E poi lo dare qualche teo alla nostra figlia. Che lei non ha nessun tratto. Peccato. Non ha nessun tratto. Alleanza con il Ghana. Attenzione. L'alleanza con il Ghana. Non è male. Però io non avrei tanto, tanto bisogno di incertare. Magari con il suo figlio. Scusami. Facciamo un attimo di una fredda. I figli. Anche il nostro lato si può spostare addirittura. Non può aspettare. Cioè, scusami. Your mother non accetterebbe mai. Ok. Ne ho sul secondo figlio. E magari lui è... Un maritino. Adesso accettare. Magari. Ah, lei è una figlia. Ah, ah, ah. È una figlia. Perdone, piccolina. Il Ghana è un relazzo forte, ragazzi. E io lo vado a fare. Accetterebbe? Sì. Decetterebbe che lei è futura regina del Ghana. Quindi, dai, su. Facciamo questo matrimonio. E insieme a avere delle alleanze potute. Adesso quanto è grande il Ghana, ragazzi. 10.000 uomini. Ti servirà spresso, non è. Se vuoi spostare qui in Africa sarebbe perfetto. Ma non ci serve per ora. Qui ha già fatto. Adesso c'è la capitale. Tante, alla fine. Sono poche città. Sono solo tre città. Eh, ci sono in guerra. 5.000. Vabbè, tu ce la fai. Cioè, io mi tolgo ma tu ce la fai. Vero? Ce la fai. Mettendo un play. Abbiamo 2.000 soldoni. Aspetto di avere i battlement. Per poi costruire tutto. Fazione. Asharia. Attenzione. Perché? Andaluse Asharia. L'unico remare è che vuole un posto. È nel consiglio. C'è posto per te. Sei un bel treci. Tu quando sei lenni? 11. No, mettiamo lui qui a sto punto. Così si calma. E se va a cagare. Per ora. Darksman. Dai, è così. E allora. E lui da più di 10. Granata. Adesso è finito tutto. Liberty Faction. E siccome in testa che sono molto deboli. C'è una possibilità. Adesso è paziente. La nostra figlia lo facciamo fare. La nostra figlia sarà più paziente. Qua stiamo conquistando in tre mesi. Lo sono già preso ma non ci testa niente. Gana è in guerra. Sta a perdere l'ora. Perché non ho messo una cittadina. Gana che sta a fa' Ah, Gana. Ah, in guerra esterna. Uh, con una tribù. È una guerra di conquista. Sì, sì. È una guerra di conquista. No, è una guerra che può dipendere. Però ce la può fare. Il petto è deviato. Questo è ottimo. Ah, io ho il petto è deviato. Quale è il segreto avrei? Scusami. Ma quale è il segreto c'è? Scusami. Ma mai detto. Ma io ti metto qui e poi traccia da te. Che fine fai il deviato. Su le mani che è morto. E miro. E loro la pagano cara. E tutto avrò conseguente. Vado a prendere un tratto molto. Pertanto per la mia cultura. Deviato. Ma come ti permetti? Io non devo conquistare. Ante la fine sono più progetti di loro. Nel quattro mesi. Lui perfetto. La pari. Poi può essere che finisca prima. Tre mesi ora. Lui già tre mesi lo era. Grazie per i soldi. È il deviato che si piglia i soldi. E tu mi odi. Maledetto. Ok. Grazie. Sta vincendo per l'ora. Prima finisce l'oro. Ma io devo conquistare i miei obiettivi. Quindi avrei di più. Ma ho un'altra figlia. Massa. Che il genius. Cioè solo il mio figlio è... Ma tu di chi sei figlio? È prima moglie infatti. Ecco ecco. Ora capisco l'otto. 100%. M4 demand. So be hit. E siamo ancora in guerra. Ma il disbandono. Che se ne frega. Il ganna ce la fa da solo. Ce la fai. Dai che ce la fai. Comunque queste tre città. Dove darle a qualcuno. E allora. Delle mie altre sorelle. Lui con questo uomo vecchio. Non so se c'è lui qui. Poi è triste. Poi è ferita. Guardate come tutte hanno questo tratto. Mayor Train. Vediamo anche noi. No. Solo. La famiglia. Cioè perché? Solo le sorelle. Perché solo? Scusami. Boh. Comunque. Lei ha questo uomo qui. Che sta qua a Tunisi. Ok. Quindi forse rimarrebbero. Lei non ha niente. Lei è Toledo. Lui non ha niente. Ah è che è il mio vecchio alleato. Invita a corte. Ti pago. E vengono tutti a corte. Il figlio è Banudanis. No. Però lo sai che vi dico. Me ne frego. Io do a lui il titolo. Ok. Io Brodello. Grand Title. Però potrei riconvertire. Sai vero? Ok. No. Mi cerco di dare. Mi cerco di dare tutto. Creiamo il Ducato di Zab. Zab Zab. Perfetto. E io do tutto a lui. Grand Title. Che lui vorrebbe. Deve una conversation? No. Però non ci sta. Grand Title. Dunque. Però che Clemens sia il mio titolo principale. È bello. O ti puoi convertire. O che mi ami. Vero. Diventi Asheri Banane. Perfetto. Nella nostra famiglia va meglio di niente. Così. I Banudanis sono tutta l'Africa. L'ho preso. Sultan. Non posso fare. In page. Car One. Non lo posso. Vassalizzare. Però l'Africa si è dissoluta. E questo è ottimo. Tutta scelta ovviamente. Peccato. Mi sa che devo fare dei claim. Per provare a espandere questa parte. Lui ha finito. Bravissimo. Vai. Oddio. L'Africa. L'Africa. Non so se sta male. C'è un Physician al corte. E lei. E lei. C'è. Lei è un Physician di se stessa. C'è un Physician che è meglio va. Vediamo un po' che capita. Che lei. Sì è saggio. Tutto io siamo un Physician. Lei mi sembra un po' troppo. Mi dà c'è più due. Ok. Allora c'è lei. Che sta pure male. C'è tutti stanno male. È rana. È cura nostra moglie. Chef Kadi. Mettiamo. Questo di qua. Che va a migliorare l'opinione di Yuba. L'Evozione. Tutto io dicendo. L'Antiquario. Mettiamo la nostra moglie. Se c'è. Non c'è qui. Ok. Ok. Prendiamo Stress. Send Gift. Grazie. Grazie. Qua c'è un'autodivente. A pezzi. Proprio. Ci regolano i soldoni qui. Riprendiamo questo libro. Le Erguian Chronicles. Qui gli altri due che rientrano. Come va con l'innovazione? Su. Questo Balterman lo vocevano a fare. Dai. Gli ultimi due anni. Poi si può allungare un poco. Sono il core tutor. Lui è buono. Lo Chef Kadi. Però c'è la coffee sisha. E c'è lui che va a niente. Mettiamo lui. Dai. L'avvento da fare. Fruit Taster. Questo è buono. Per avere come ci aiuti. Col mangiare. Oh. Liberty Faction. Non è più numerosa. Oddio. Perché? Perché? E mi doi murse. Perché mi doi tanto? Shot Rain. Ghiottone. Deviant. Artread. Quanti tanti brutti che c'ho. Granada. Tu sei il mio steward. Mi vuoi bene. Vero. Tito Clayman. Cosa vuoi? Curtuba. Ma chi ti conosce? Allora. Andiamo a lui un regalino magari. 150. Se magari lascia. E se lascia a Curtuba. E tu è amica mio padre. Perché lo metatisci così? Il GDR. Il GDR. Che lo... Non prendiamo lui. Ho ammazzato mia figlia. E mia moglie. Maledetti. Maledetti. E allora. Troviamo la fazione. E guarda anche quelli lì. E non se ne va. Però tutto sta migliorando. Perfetto. Però cercare di fare qualcosa. Mallorca. 1943. Sì. Non c'è qualcosa di interessante. Tipo. La student tapestry. Paris architecture. O. Abbiamo la student lens. Non c'è questo. Si va. Mi viene in rapporto con lei. Già più 5. Mi resta un po' come scende. Stavano tutti. Si vuoi con lui che è più forte. E anche mio steward. Non mi spiega che sia. Buon. Amico mio. Mia nipote. Devo si liberare. Ok. Centro un sacco di sordi. Oh. Per niente. A un favore. E vabbè. E vabbè. Grazie. Non ce l'ho messo di me. E qui. Molte mirate. Che non ci interessano. Oddio. Che ho preso. Il Volga Bulgarian. Proprio. Non mi sono detto male. No. Grazie. Non mi sono. Allora. Questo. Quello stiamo a fare. Aquitania. Il Kenya. Che. È stato Ledo. Borgogna. Arwan. No. France. Sardinia. Questo è mirato. Dove sta? Uh. Ecco. Ora sì che ci siamo. Ora sì che ci siamo. Almazzati. Quindi anche questi. Pensano? Sì. Posso fare guarda tutti questi. Che bello. Abbiamo tutti. Posso fare guarda un po' tutti quelli che sono in questa costa. Che sono. Butri. Come uno. Per la Conte di Jafar. O il Ducato. No. Contea. Vedi così. Guarda Santa. Metti pausa. Declar War. C'è questo rilevato non mi interessa. E qua. Per il Ducato. Ovviamente. Così andiamo un po'. Ammio tutta la costa libica. E andiamoci a cercare l'Egitto. Ragazzi. Così che può stare una bella guerra con l'Egitto. Tra il vero gran nemico che avevamo. Do tanto tempo. Allora. Adesso appunto qui. Richiamo. Ovviamente. Rise all year. Vediamo un po' se la nostra macchina. Bellica. Può essere ricoperta dai soldi che entrono. Vediamo un poco. Un po' grande. Ci mostro gli omaggi. E allora volevo essere un amico con il nostro padre. Andiamo tutto a Sfax. Oh. Andiamo a questo. Lei è incinta. Non ci voleva. Senghi. Grazie. Grazie. Tutti ci mandano soldi a noi. Così. E. Vai in monifensive. Non ti voglio di posservirci. Posso pensare anche a costruzioni della ora. Però. Andiamo a battere. Ci abbiamo due anni. Abbiamo moltissimo tempo. La città quando ci danno? Due. Tre. Tre. Doveci culpi. Però altre hanno poco. Mi sembra ancora. Ora. Ancora mi sembra. Mi sembra anche fatto dalla. Conquista. Mi sembra anche fatto dal controllo possibile. Vediamo un po' le nostre città. Mentre noi conquistiamo qui. La nostra città. Allora. Alarcos. E ok. Calarrava. E ok. Curduba. E ok. E il. I devolpamenti qua sono. 27. Anzi. Non è male Calarrava. Vado a dire. Non è male. Non è male. Perché c'è il posto. Che cosa ha più strutture. Più cose. Cioè. E' un po' la città più ricca che abbiamo. Noi abbiamo intanto 11. Che non è male come pensi. Però qua c'è uno 100. Ci pergono 16 mesi di guerra. Grazie. 11 mesi. Perfetto. Rubiamo questa collana. Nasce un'altra figlia femmina. Che è intelligente. Ok. Andiamo a Gaps. In questa guerra è il canale che non ci interessa. In questa guerra è coltaretta. Il nostro obiettivo è tutto questo territorio. Quindi è giusto che andiamo a conquistare qua. Anzi no. E' quello di là. E' tutto per non fare. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo espanderci. Ficchiamo. Vediamo tutto. Poi andiamo nei nostri territori più importanti. Questi di qua. Non ce ne sono qui. Perfetto. Mettiamo un bel cinglio. Che voglio sbrigarmi. A conquistare. Tre mesi. Perfetto. Non so dove stiamo andando. Stavano nei nostri territori. Ma non mi interessa. Questa tutta la regione è qui. Aveva tutti gli obiettivi di guerra. E quindi ciao ciao a tutti. Andiamo già a fare il nostro primo obiettivo. Ancora di Beauty Faction. Perché muove male Mallorca? Non posso andare in regalo che già vi ho andato. No posso andaglierlo. Così si calma magari un poco. Tutti muoviamo male. Penso che è stato ambizioso. Le high tax. Low tax cioè tu. Per forse per fatto del deviante. Vi dicendo. Poi anche fatto la... Siamo in guerra. Loro vogliamo approfittare. Fino ai 150. Non ci devono essere soldi per ora. E allora. Ovviamente alla manna. Alla cosa... Not in this freeze. Gerson 65. Facciamo sicurezza che tutti i zeros perdono l'opinione. Non va bene. Non va per niente. Beh. Oh i Batman finalmente. Finalmente. Via guerra vinta. Enforce demand. Noi siamo a dire 13.000 uomini. Presto tantissimi uomini. Spero di riuscire a vincere questa guerra eh. Non è proprio in tribù d'Italia. Perché abbiamo una città in più? Scusami. Non so perché... Moschea. Possibile. Ah no perché c'è la città lì. E abbiamo subito dalla qualcuno. Sennò qui ci fanno guerra ai nemici. Sennò qui ci fanno... Sennò si è perso un attimo. Cerchiamo di sbrigarci. Zuwara. Zuwara. Fa parte della tutta... Delle Unwarn Emirates. Ok. Quindi possiamo darla a qualcuno così a caso. Grand 2. Nome di cultura Baranis. Perfetto. Si è sotto la città. Task finish. Dove amico mio? E allora... Converti ancora. C'è una spina esotica. E andrò a dire possiamo anche stare per ora. Oppure... Fare qualche claim magari qui. Per unire un po' con la costa. Non sai male come è mossa eh. Quanta guerra vinta. Enforce demand. So be it. E l'attività non c'è a vincere. Quella guerra. Che ha avuto tantissimi uomini. Andiamo all'abda. Abbiamo questa tutta del Ducato. Lo sono... Ben 4000. Vai con le costruzioni. E vai con il healthy. Con il... Focus wealthy. Per le ricchezze. E allora... Tripoli. Fa parte del... Tutto lui. Tripolitania. E il Ducato. Tripolitania. Andiamo con tutta Baranis. Va bene. Non deve stare per questa regione qui sotto il mio controllo. Che sono città penso povere. Viluppo 11. Non penso di avanti soldi. Non si va a conquistare la capitale. Lo stanno muovendo. Penso verso di noi. Che mi stanno andando a partire. Ho creando il livello 9. Lo sono qui. I nemici. E' stato belli a Tunis. Ma che se ne frega. Qui siamo un limite limite. Arrange marriage. Io. No. Mettiamo mio figlio. E mi sorella c'è qualcuno delle corte. Your daughter. Lei. Qualcuno. No. Non c'è niente da fare. Questo maledetto. L'Emilo. Che deve morire. Mi sa. Io. Ho i tratti. No. Non ho niente. Quindi proprio. Non vuole sposare. La nostra figlia. Magari. Ok. Con lui. Però Marineale. Si accetta. Si. Quindi c'è questa alleanza. E lui. Si può stare zitto. E lascia. Lascia la coalizione. E infatti. Ecco. Il probability faction. E' un gran dottore di scato. Devo dire. Uh. Uh. No. Non voglio morire. Rana. Circle physician. Perché? Perché la vede rana? Ah. Perché abbiamo stato fatto questa strong potion. Un periodo di che vengo uscito da rana. Mmm. Per cinque anni sto male. Mmm. Ok. Insultata. Ma. Non ci fa niente. Che è meglio. Qua c'è un posto libero. E c'è. Mettiamo lui con un bel 14. Non è male. Tu continua con. La questione dell'ordine. Andiamo. Facciamo la spagna a questo punto. Che lì c'è troppi problemi. Vedo. Troppi problemi. Avanti con la conquista. Della tripolitana. Di Sirte. Guerra vinta. Ok. Ci arriva anche un po' di soldini. Che non ci fregavano da noi. La guerra vinta. Enforce demand. So be. Disbundle. Ora. Lambda. E' un duca da sé. Che andiamo a creare. E la porremo da qualcuno di noi. Importante. E' un altro figlio ora noi. E' stato con lui che è il re di gana. Quindi non ci interessa. Tuoi ritrovo un bel. Marimonio. Quanto è marinare. Tratti ereditabili. E' inizio da 5. C'è la lanza con Barshi Luna. E lui non ha niente. Yurnef. 9 anni. Eccolo qui. Si può fare. Lei ne ha 4. Lui 9. Perfetto. E poi lo diamo al ducato. Mettiamo 3. Perfetto. Il modello mio. Grand Titan. Ti faccio un bel regalo. Perché se sei intelligente. Ti metti un bel regalo. Le miele di Sirte. Teh. Teh. Che fa parte. Sirte del. Possiamo fare le miele di Sirte. Quale fa il sultanato. Regno d'Africa. Quindi se creano il regno d'Africa. Avrei tutto. E manca poco perché è il regno d'Africa. Poi questo gioco qui. Giaffara e altri. Fanno fare la Tripolitania. Che possiamo creare. E avventa la diamo al tizio che sta in Tripolitania. Ovviamente. Grand Title. La Wallia. Dove sta? Ecco il mirato di Tripolitania. Manca solo Gelba che sta qui. Però vogliamo fare le guerre. Perché abbiamo ora il De Jure. E aspettiamo fare le guerre a lui. Perché bisogna fare un po' tutta questa cosa. E riunire tutte le città. Lui per fare quella no. Va bene. Task Aborted. In che senso? Ah già c'è l'ordine. Vai qui. Tu 5 mesi. Stiamo andando abbastanza bene. Ora stiamo vicino a. Tulunid. Che sarebbe. Cioè è la famiglia. Come le abbiamo da. E se bene su questa cosa. Quindi quando va a un sultanato. Un mirato di. Un regno in Africa. Dà il nome. Alla. Alla sultanata di famiglia. Diciamo. Molto bello. Che è un artefatto? Tu chi sei? Se non mi passarlo. Io lo stico usando. Ma. Capito va. Chi se ne frega. Va bene. Abbiamo moltissimi soldi. Ucce. Altri che ne arrivano. E mi sa che questo è subito. Il Policastello. Ora. Mo' si costruisce ragazzi. Che deve andare avanti con la costruzione. E. Prima di avere. Diciamo una. Mortifiscia rana. Spiazze. Prima di avere. Diciamo. Il Ciroforte. Per avere le città forti. Che venivano molte ricchezze. Quindi. Si va. 5.22. Prendiamo circa. 3 Ducati. Ma lo facciamo. 3 anni. E. Prima di tutto si fa. Il. Curduba. Curduba si va a fare tutta. 2. E 3. E a questo punto. Al cazzo. E l'ex capitale. Si fa pure. Ho preso moltissimi soldi. Ma si fa. Cose belle. Si fanno così. Cose belle e buone. Soldi. 25. Mando i claim. Prendiamo il weekend su questa città. E. Potremmo fare il claim. Anche su quest'altra parte. No. Che proprio adesso mi sembra. E' pure il suo. Assultante. Tutto lui fa. Forca miseria. Posso vedere che tutto è educato. Scusami. Prendiamo il villano. Io. Ho pochissimi uomini ora. Ma. I soldi ci sono per fortuna. Tass finish. Anti ransom. Va bene. Quanto non ho detto. Posso chiedere soldi. Vanno. Artefatti. Si qua può anche distruggere. Si fa in crow. Si può anche distruggere. Ma si qua. Si può distruggere. Assurant tapestry. Tutti i sistemi. Mi sembra che lo stiamo utilizzando. Mentre il lavender. Si strana pure. Perfetto. Ok. Ho ancora physician. Average. No. Io ho ancora physician. Con i controi. Cosiddetti. Quindi. Andiamo a cercare il physician. Ma. Questi sono altri due. Che possono entrare. Non vediamoci tutto. Quello che poi. Non c'erano niente. E allora. C'è lei. Melissa. Che è una physician. Di livello 3. Anche. Novis hunter. Poi c'è lui. Niente. E' lui. Saggio. A lui. Mettiamo la corte. Così. E viene gratis. Lei. Maurice. Marnissa. Possiamo mettere la corte. Ragazzi. Così. Non pago niente. Ferma. Ferma. In curduba. Cioè. Sì. Posso fare gratis. Simpatica. No. Io ho un poco. Physician. No. Non ce la da lei. Anche se a cordova. Lei deve venire con noi. Ok. Physician. C'è l'antiquario. Mia figlia è buona. Mettiamo lei. Qua. Antiquaria. E l'altro uomo dove sta. Ecco qui. Io ho counter. Scusami. Avevo un physician. No. Mettiamo qua. Il principio è eccellente. Però il physician. Io l'avrei. Scusami. Allora che c'ho quella lì. C'ho preso. Scusate. No. Non c'ho il physician. Lui ha corte. Unlanded. Cioè lei non viene. Non ho capito sta cosa. Professional work. Mi ha preso le costruzioni. Mi sa che ha fatto una cavolata. Mi sa. Ci ha provato. E allora. Lui è. Sui è già. Già qualcosa. Non c'è una cosa. Penso. No. Non è neanche antiquaria. Mettiamo lei. Appoint. E physician. Niente. Non ce l'ho fatta. Qui abbiamo unici. Oddio. Quante cose abbiamo. Exploration. Per un'armatura. Tu sei. Otto. Beh. Per un'arma. Tu sei. Non sei. Beh. Eviterei. Eviterei. Come molte cose. Che però non ci c'è niente. Abbiamo dei libri. Penso. Vero. Questa è una statua. Penso. Un bastone. C'è una statua. Questo libro. Fine. Curie. Che ci. È buono. Per cosa. Per. Il. Building. E molto. Learning. No. Cosa che sia buono per. Ecco. Stewardship. Vai così. Qui abbiamo moltissimi eventi. Allora. Hai sbagliato i pretenziosi. Eh no. Di sbagliato. Allora. Each of you. Tell me why you deserve a title. Gates. No. Io non voglio perdere Lisbona. No. Col cavolo. Io non voglio perdere Lisbona. Io non voglio perdere Lisbona. In alcun modo. Ma continuamente. Ma state zitto. Guarda. Lisbona è mia città. Qui. È per 300. Ma. Urala. Cipollineone. È iberia vulgar. Ok. Si chiama lingua. Fingerbones. Si chiama tutte le cose. Facciamo prestigio. E infine. A Couture's Corner. Why would you honor to which. Mernissa. Position. Col physician. Lei col physician lo è? Eh. Cosa vuole quella? Cosa vuole? Io. Do this. Position. Lei. Con physician. Che non dici a nove. Ma sì. No. Lei è un physician. Bernissa. Cioè. Bernissa. Oh. È la mia cotta. Ma non c'è. Ah è mia figlia lei Perché non è da me Non ho capito Comunque ragazzi Vengo qui Su questo di oggi Ancora una volta Mi chiedo ancora scuro Per il fatto della Mancata di stazione Nel fatto di iniziare Non so se ci sia Prima non lo so Magari Si è saccato dopo Devo vedere Un po' Devo vedere Ma Pensiamo qui Come ho tolci Noi abbiamo preso Tutta la costa libica Grazie Forse alla conquista di Tunisi Ci abbiamo messo Di andare dall'altra parte E adesso Confinante l'Egitto Che poi ci potrebbe portare Qui Al Jerusalem Alla Mecca Magari posso fare Un claim E adesso Ti va a fare Il claim E qui Lo posso fare Il claim Questa è una cosa Molto buona Anche il Sinai Che c'è qui Una città sana Quindi Si facciano Il nostro obiettivo Come struggle Penso sia un po' Più lungo Ma la cultura Baranis Si sta espandendo A vista Doche Questo è buono Io non penso Perché non si può Cioè non può Già lui fare La cultura Baranis Qui Cioè lui è Andaluso Oh Andaluso Quello che avevo O è l'altro Forse E' lui Che è morto Comunque ragazzi Fino a qui Il episodio di oggi Spero il video vi sia piaciuto In ogni caso vi lascio un like A commentare Di la vostra In questo momento è fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Facete notifiche I video che usciranno E vi ricordate sempre Su Cane Viola Do a fare live E sui social Come Facebook Instagram E TikTok Così per stare di più Su un lavoro Vedete altri contenuti Non interiari Le mie offerte Non ci vediamo Il prossimo episodio La prossima E passi chiudo